buonasera a tutti ciao claudia ciao sabrina come va tutto bene bene grazie tu il caffè c'è sì come sempre stasera visto che parliamo di viaggi e della tenerezza la tazzina vediamo se si vede se riesco sempre ho preso quella di new york perché sai questi souvenir che compri giusto per qui tazzina è l'altra volta a londra con furore e oggi appunto caffè freddo è perché fa un po caldo quindi quando sei andata a new york a new york è stato il viaggio dei miei 40 anni sono stato un sacco di tempo e l'ho vissuta proprio bene è un'esperienza bellissima insomma una città che va vista o l'ami o la odi quindi però una volta nella vita va vista perché spettacolare poi sai per le donne con tra scarpe shopping anche se non sono amate un altro un'altra diretta su quelle robe lì che è veramente pazzesco non l'ho visto da nessuna parte quindi un sacco di cose da raccontare quindi belle bellissima ascoltarti grazie senti claudia abbiamo già qualcuno collegato se vuoi cominciare a presentarti due parole così se qualcuno non ti conosce ripassiamo ripassiamo allora io sono claudia e sono principalmente insomma un insegnante di italiano per stranieri e sono una pedagogista e collaboro con alcune associazioni del mio territorio della mia zona e adesso anche con con sabrina e ho questa opportunità questo onore e scusa come no ci mancherebbe e quindi niente praticamente dicevo collaboro con diverse associazioni ho iniziato un bel po' di tempo fa perché credo molto nella nel discorso che di mutuo aiuto anche soprattutto tra tra donne e quindi non solo nel campo diciamo educativo ma nel campo del benessere legato al mondo femminile e quindi il covide ha dato la possibilità insomma è la fase 1 la fase 2 la fase 3 stanno dando veramente grandi possibilità di fare incontri professionali e non molto molto interessanti e arricchenti insomma da morire e quindi anche con sabrina insomma sono assolutamente d'accordo vero perché noi siamo stati una conoscenza covide quindi è un bel regale un bel regale visto un bel regale e quindi insomma poi ci siamo inventate un po' questa rubrica beh sabrina è stata bravissima perché veramente sta facendo delle dirette spettacolari una più bella dell'altra molto parte nuove di argomenti anche di cui non ho mai sinceramente da ignorante mai sentito parlare e però anche il fatto di intrattenere delle persone non solo prima ma ancora adesso quindi di buttarsi insomma di mettersi in gioco no che un po questa anche la mia filosofia no tutte le cose che che comunque arrivano che faccio comunque anche per crescere personalmente quindi questa è la è la base no ti dico che tante cose non non le conosco neanche io per cui è giusto non è arricchente per tutti e poi è una cosa che mi sta divertendo un sacco e quindi è giusto finché in che si fa compassione e si va avanti e poi sono d'accordo sono assolutamente d'accordo quando poi la gente comunque segue poi anche il fatto di che comunque possono rivederci su youtube comunque possono e comunque seguono e secondo me è veramente bello veramente insomma arricchente da morire tanto io guardo ogni tanto se qualcuno che si deve collegare ok ogni tanto io mi assento esatto io non vedo i commenti quindi se poi c'è qualcuno che scrive magari ci fermiamo ogni tanto e diciamo sempre che questa è una chiacchierata non è assolutamente una lezione e quindi con il world cafe mi pare che sia il quarto incontro che facciamo esatto il quarto abbiamo fatto abbiamo così sviluppato alcune tematiche che erano non so l'importanza delle parole il silenzio il tempo e quindi quando sabrina mi stava facendo un trattamento nel suo studio mi è così venuto di parlare del discorso della tenerezza anche oggi avremo delle slide che magari puoi già come dire ok allora allora bello il tuo cane scusate ok ci siamo ok sì allora non so se devi ingrandirlo o meno se le persone vedono vedono bene non so questo io lo vedo benissimo questo è il massimo ok perfetto va bene allora io ho scelto un po questo titolo di viaggiare nella tenerezza prima di tutto perché siamo nella fase 3 e i viaggi insomma anche se è arrivata l'estate il tempo libero e la libertà tra virgolette che adesso abbiamo però è molto difficile in questo momento viaggiare no quindi siccome io sono una persona che viaggia tanto ha viaggiato tanto ma allo stesso tempo viaggio molto anche con la testa col cuore quindi mi sembrava interessante sviluppare la tematica della tenerezza perché mi sembra un tema che ogni tanto è sottovalutato ogni tanto è un po' sottovalutato ho messo una foto e simbolica chi ha seguito gli altri incontri sa che uso moltissimo le immagini perché penso che siano di effetto che siano che siano ognuno può guardandole può benissimo insomma immaginare entrare in uno stato e soprattutto entrare anche un po' nel tema e questo non sappiamo tutti questo cartone amato famosissimo no quindi ma chi mi conosce sa anche che sono una persona che molto pratica e con sabrina ci siamo anche trovati da questo punto di vista perché noi siamo persone che si occupano di benessere di leggiamo tanto ci occupiamo della parte emozionale emotiva però è anche vero che è importante è una parte anche teorica però è importantissimo anche partire dalla realtà da quello che ci circonda e se vuoi andare anche avanti con le slide ho voluto mentre appunto pensavo all'incontro di oggi è stato quasi un mese dall'altro perché poi io mi preparo cercando dei materiali vi dico proprio come procedono cercando dei materiali e soprattutto così apprendo ancora di più l'orecchio e gli occhi cioè nel senso apprendo ancora i sensi no oppure se mi arrivano delle frasi o dei semplici messaggi whatsapp da qualcuno è come se li li recepissi e li poi li inserissi e li riesca a inserire dentro un contesto no allora mi sono capitate due cose molto interessanti due fatti volevo partire da questa foto bellissima secondo me mi ha mandato un messaggio un'amica dicendo mi guarda nel mio giardino finalmente un giardino nuovo che prima era solo cementificato quindi lei c'è stata insomma a curarlo durante i mesi che siamo stati a casa eccetera e è nata una rosa e questa rosa la porterò è la prima rosa la porterò mia madre che è morta da pochissimo che era la persona più importante no allora questo fatto mi è sembrato di una tenerezza pazzesca mi è sembrato veramente un elemento ecco ho detto devo partire non per creare qualcosa di patetico non per creare semplice commozione ma per dire come un semplice gesto un semplice elemento naturale possa farci avere veramente uno sguardo molto più ampio e soprattutto mi è sembrato una grandissima un grandissimo collegamento tra quello che è un discorso nostro terreno di terra visto che sabrina tu sei anche una naturopata e un toro e un toro eh? naturopata è una naturopata è un toro per cui è appiccicata la terra ecco esatto quindi un incontro proprio un grandissimo collegamento tra radice e cielo no? e mi sono fatta appunto la domanda se abbiamo la necessità di tenerezza oppure no? e l'altro collegamento l'altro input che mi è arrivato è stato quello invece di una mia amica che si è che sta facendo un corso per diventare fiorista la slide l'immagine che è alla fine per salutarvi quindi l'ha messa una all'inizio e una alla fine ehm ed appunto mi ha mandato questo bouquet di fiori mi manda sempre tutte le sue le sue creazioni no? e trovo che questo fatto di utilizzare degli elementi naturali per rigenerarsi riqualificarsi a livello professionale ma che questi oggetti chiamiamoli così questi strumenti queste azioni perché è di azioni che vorrei tanto anche parlare stasera non solo di parole ehm siano eh così legati eh alla tenerezza quanta tenerezza c'è dentro questa cosa qui e poi per prepararmi quindi ho cominciato a farmi queste domande no? ma c'è la necessità di tenerezza oppure è semplicemente un elemento una categoria che è come dire è legata solo al romanticismo al buonismo ai bambini piccoli eh quindi mi sono così ho cominciato a fare delle ricerche per un po' anche svincolarci da questa unica interpretazione della tenerezza possiamo andare avanti e volevo con chi ci sta ascoltando chi ha seguito gli altri incontri sa che ogni tanto faccio un giochino no? quindi partendo proprio dalle nostre mani perché la tenerezza è legatissima non è soltanto qualcosa che è legato alla come dire alla spiritualità perché se una persona fa una ricerca sulla parola mette su google non so oppure cerca dei libri eccetera generalmente si trovano molti elementi religiosi bellissimi eh ci mancherebbe però è molto importante anche vedere come la tenerezza sia soprattutto legata all'azione e all'uso eh al fare quindi chi più di cioè insomma le mani sono un elemento come dire che tutti quanti usiamo no? sia anche i mani e i piedi non so per esempio per viaggiare anche i piedi no? perché si cammina eh si si procede eccetera la terra è fatta per camminare non è fatta per le macchine no? i pneumatici è fatta per viaggiare a piedi anche tantissimo no? e quindi volevo che insomma volevo chiedere a chi ci sta ascoltando se vuole nelle sue nella sua mano mettere cinque elementi cinque parole che così di getto proprio un minuto ehm vengono collegate alla parola sono collegate alla parola tenerezza come sempre non c'è niente di giusto di sbagliato eh proprio una cosa che vogliono anche condividere poi possono farlo o con noi o e così proprio non metti questa volta non mettiamo canzoni non mettiamo musiche non mettiamo niente ognuno ha la sua così immagine in testa e vediamo che cosa eh cosa viene fuori possono essere qualsiasi tipo di parole immagini o situazioni elementi ripeto non c'è niente di giusto di sbagliato tu non li vedi i commenti no purtroppo no allora ritorno purtroppo non li vedo ok allora ritorno ok così io ho scritto giuno carezze abbracci morbidezza mamma ok altre persone c'è qualcuno che ha scritto altro non ancora sono un po' timide ma adesso scriveranno Tamara non fare la timida su è una mia amica che è collegata a me sui pollici bello questo un giochino che ogni tanto insomma perché comunque le mani veramente sono parte attiva no sono una delle parti più attive del nostro tutto l'organismo però quanta tenerezza c'è nelle mani eccolo qua abbiamo un commento lo vedi così? sì abbracci coccole cuore dolcezza amore bene non sappiamo chi sei però bello bellissimo bellissimo anche perché poi una persona può completare poi la sua la seconda mano no l'altra mano noi facciamo una l'altra ci pensa che può farla come la vernice due mani esatto due mani due mani con la vernice va bene andiamo avanti comunque insomma è un gioco così per condividere per entrare un po' nel nel tema no la cosa molto interessante è che la tenerezza è preverbale cioè nel senso è nel nostro DNA è nel DNA delle persone è nel DNA cioè fa parte di noi voi pensate nel momento in cui noi abbiamo atteggiamenti teneri nei confronti di qualcuno come siamo prima di tutto felici ma al stesso tempo ci diventiamo piccolini diventiamo piccini no e allo stesso tempo se la riceviamo nel momento in cui riceviamo la tenerezza ci sentiamo coccolati ci sentiamo amati ci sentiamo ricordati proprio come i bambini cioè entriamo quasi in una dimensione come se ci rimpiccioliamo no non siamo neanche forse abituati no perché l'altra domanda che mi sono fatta è quanta tenerezza le persone hanno o noi abbiamo nei confronti di noi stessi soprattutto le donne soprattutto le donne no quanta tenerezza hanno sono portate a elargirne elargirne si dice a darle tantissima no ma nel momento in cui si può ricevere eh si è quasi come dire imbarazzo oppure eh non non ci si crede a sufficienza no quindi dici ma no ma adesso cos'è sei grande ma perché ma figuriamoci no un po' come la gentilezza un po' come il sorriso sono tutte quelle categorie sono tutte quelle con gli elementi che sembrano come dire che quando sei grande non è più per te allora volevo un po' ribaltare questo questo discorso eh c'è qualcun altro ancora che ha scritto se no andiamo se no andiamo avanti aspetta che guardo allora interrompi ok no sono timide sono timide ok va bene e quindi insomma mi sembrava molto carino parlare soprattutto di due altri elementi che puoi andare avanti che ho incontrato durante anche le mie ricerche perché innanzitutto il passaggio un po' dalla mano dai piedi che vi dicevo al discorso dell'impronta impronta digitale no allora sarebbe veramente interessante capire se il discorso della tenerezza può essere usato come una risorsa cioè se io la posso riconoscere come una risorsa non cadendo appunto in quello che vi dicevo prima perché molte volte quando si parla di gentilezza di tenerezza è legato non so a un romanticismo a film romantici a libri rosa no cioè tutto un campo se vogliamo anche solo femminile a volte come se gli uomini non fossero degni di tenerezza o fautori di tenerezza allora mi sono invece chiesta ma è utopia questa roba qui oppure noi possiamo lasciare delle impronte di tenerezza dovunque se la domanda principale al di là se sia un'utopia o una risorsa e se invece fosse una strada una via un viaggio appunto per ripensare radicalmente la nostra presenza nel mondo cioè io attraverso il discorso della tenerezza posso dare un imprinting un'impronta diversa a quella che è la mia quotidianità di costruire un bene comune è utopia o realtà non sto facendo un discorso religioso eh cioè non vorrei essere confusa ripeto pur rispettandoli eccetera sto facendo un discorso molto concreto posso veramente utilizzare nei miei rapporti interpersonali nei miei rapporti quindi familiari educativi lavorativi eh di di rapporto con un'altra persona amicale posso utilizzare il discorso della tenerezza oppure penso che sia eh come dire un quasi una eh qualcosa che mi invece non mi mi fa togliere quel muro di sicurezza mi non mi dà più mi toglie il potere non mi dà potere ma mi depotenzia e quindi mi fa vedere così come sono comunque le mie fragilità io credo che lavorandoci e innanzitutto riconoscendola come tante altre cose possa invece questa è una mia eh ovviamente interpellazione personale possa invece essere una grande risorsa un grande elemento di discontinuità due libri che ho eh analizzato un po' in questi in questi giorni così che mai mai sarei aspettata di 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 incontrare tra virgolette sono uno un libro su Che Guevara se vuoi andare un po' avanti che è una cosa che è proprio stata per me abbastanza inaspettata perché c'è stato questo scrittore quindi la storia di un uomo che già di solito quando si quando si pensa al discorso della tenerezza non so se mi è mai capitato ma si pensa sempre alle donne no? la donna mamma la donna che aiuta tutti l'infermiera la croce rossina la perla maestra cioè tutte quelle figure quei ruoli bellissimi importantissimi ma alcune persone invece legate al mondo maschile meno non so Sabrina se sei d'accordo non so sì assolutamente e quindi il primo libro invece che in cui mi sono imbattuta è un libro che imparate la vita del Che Guevara figura sua biografia rivisitata eccetera è senza perdere la tenerezza il che mi ha colpito molto perché poi era legato anche al discorso del viaggio no? quindi questo libro bellissimo parla proprio di innanzitutto della figura del viaggiatore del rivoluzionario dell'avventuriero del romantico del vagabondo no? le sue caratteristiche principali e allora la domanda che mi sono fatta è ma la tenerezza è rivoluzionaria? può essere rivoluzionaria? è romantica lo sappiamo no? può essere vagabonda vagabonda nel senso di che non si siede mai ma non si ferma mai va sempre avanti e gira il mondo avventuriera come lo era lui nel senso che si intende la vita come qualcosa da vivere in modo appieno senza perdersi perdersi in perdita di tempo quindi secondo Cedevara addirittura in questo libro si dice bisogna essere come dire necessario essere duri però senza perdere la tenerezza ed è una cosa bellissima perché essere duri ovviamente non intendiamo durezza di cuore con i muri ma intendiamo con questo sostare con questo vivere convivere nella quotidianità tenere a mente cioè tenendo a mente tenere a mente è in modo ancora più consapevole cosa vogliamo davvero e dove vogliamo andare un po' così quindi sicuramente il viaggio all'interno della nostra tenerezza o della tenerezza come risorsa ci può aiutare a prendere sempre di più consapevolezza di chi siamo questa è la cornice la base su cui così questo fatto dell'essere duri soprattutto lo dico anche per le donne per gli uomini ma visto che ci rivolgiamo soprattutto a un pubblico femminile generalmente appunto siamo in un periodo anche storico in cui le donne sembra che debbano di mostrare durezza per affermarsi fermarsi da tanti punti di vista e non parlo solo dal punto di vista lavorativo allora la tenerezza può aiutare le donne può aiutarci invece ad affermarci in un modo in cui la femminilità e il femminino siano presenti noi non dobbiamo ricalcare copiare fare il copia incolla di quello che è l'atteggiamento maschile lo sappiamo queste sono cose scontatissime quindi il discorso della tenerezza può rientrare in quello che è il modus vivendi il nostro modello comportamentale come categoria come uno dei tanti input che posso usare per vivere meglio anche lì ognuno può trovare la sua risposta la sua dimensione però questo libro mi ha veramente colpito perché il fatto di riconoscere come la tenerezza come qualcosa di rivoluzionario come qualcosa di costruttivo che va a rompere certi schemi mi sembra qualcosa di molto così perché volevo appunto condividere a me è sembrato interessante sembrava interessante condividerla con voi una visione un po' ecco diversa una visione un po' diversa e se vogliamo andare avanti l'altro libro invece che mi ha colpito molto sono venuta incontro è il libro di questa donna che si chiama Isabella Guanzini ed è la tenerezza come la rivoluzione del potere gentile lei fa un'analisi bellissima della società contemporanea e dice delle cose pazzesche no? innanzitutto analizza un po' una parte destruense e la parte costruense cioè dice una parte distruttiva che noi un po' abbiamo ogni tanto abbiamo appunto soprattutto dicevo prima le donne legato a un discorso di dove c'è un po' di insomma l'ansia da prestazione dobbiamo sempre dimostrare qualcosa la non so una volta che il fatto di dimostrare la pietas il fatto di dimostrare accoglienza dimostrare appunto tenerezza va un po' a combattere con quello che è il discorso del successo no? cioè se tu non ti comporti in un certo modo se tu hai atteggiamenti di tenerezza vuol dire che non puoi arrivare a certi livelli no? c'è un po' quasi questa idea e invece noi dobbiamo un po' rivoluzionare questo circolo questo circolo facendo diventare la tenerezza come un elemento di un circolo virtuoso e quindi il modello che noi abbiamo davanti a volte appunto quello della concorrenza dell'indifferenza del pensare a me stesso di un egoismo di un io anche molto spropositato no? è difficile infatti ne parlavamo prima della diretta a volte lavorare insieme ad altre persone no? condividere pienamente così se non c'è una base ben una comunicazione una base ben strutturata è chiaro che i rapporti poi rimaniamo poi dal punto di vista lavorativo a volte si insomma si rompano no? io credo che appunto che il discorso della tenerezza vada a toccare delle corde a tutti quasi proprio delle insomma smuove qualcosa proprio di ancestrale ed è qualcosa come diciamo prima il discorso delle mani che muove sia l'anima ma soprattutto muove all'azione è proprio qualcosa che ci spinge a fare ci spinge a fare affinché proprio la parte distruttiva la parte poco costruttiva quella della società per esempio se vogliamo viverla a livello più macro ci come dire fa in modo proprio che ci spinga a migliorare quello che è la vita sociale no? quello che è il nostro il nostro contorno no? le nostre relazioni soprattutto ma la parte più interessante è la parte quella invece di costruzione come faccio io a usare la la tenerezza a livello di costruzione Sabrina qualche idea? come faccio? cosa posso fare? no allora io stavo pensando stavo pensando a quello che hai detto della della tenerezza in relazione alla adesso vabbè a me non vengono tanto le parole ma alla carriera lavorativa no? cioè quanto sia distante no? questa idea del capo tenero ok? questa cosa è vera mi ha colpito molto anche perché no no vai no anche perché la parola tenera no? se tu ci pensi viene usata non so per il cibo un cibo tenero una verdura tenera no? non so oppure film tenero un bambino tenero una persona tenera che tenera no? ecco è vero sì è normale è giustissimo no? è bellissimo come cosa però ripeto è molto secondo me stasera se riusciamo a riflettere anche darci un'altra riflessione cioè darci un altro spunto di riflessione veramente di utilizzarla in modo pratico semplice cioè tutti abbiamo facciamo atti di tenerezza continui credo magari senza neanche accorgersene o li riceviamo anche come dicevo prima però sarebbe interessante fare in modo che diventi un elemento appunto di costruzione un elemento presente sempre che mi accompagna che viaggia con me che viaggia con me come il discorso dell'assertività come il discorso della gentilezza e ripeto non in senso stucchevole semplicemente romantico del termine retorico ma come qualcosa di vivo di assurdamente vivo qualcosa che di generativo di attivo e non qualcosa che si allontana assolutamente e quindi Claudia la costruzione cioè il fatto di fare una cosa costruttiva potrebbe essere mi viene in mente lo scambio io ricevo un atto di tenerezza di gentilezza e lo ricambio nella stessa giornata si crea una sorta di catena di gesti teneri cioè io faccio passare una macchina la macchina che viene fatta passare dovrebbe farne passare un'altra e via discorrendo assolutamente e poi di rendersi anche conto a volte di averne consapevolezza cioè di quanta ne riceviamo e quanta anche ne diamo e soprattutto il fatto che questa cosa qui non va a depotenziarci ma va a potenziarci come persone perché c'è un arricchimento c'è un arricchimento se vai nell'altra slide vabbè ho messo volevo trovare i quadri di Archimboldi ma non so li vedevo troppo bui non riuscivo a metterli nelle slide e adesso sta questa cosa qui questa composizione di frutto e verdura mi piaceva si usano adesso eh sì infatti come elemento invece di vabbè di costruzione perché la la tenerezza veramente ci aiuta a spogliarci di egoismo spogliarci di un io nichilista chiamiamola così per aprirci al mondo noi arretrando cioè avendo un atteggiamento che sembra passivo no che sembra di abbandono io mi abbandono alla tenerezza rinuncio la scrittrice dice alla mia autodifesa permanente c'ha questi muri che ogni tanto mettiamo soprattutto nelle relazioni a tutti i livelli no il covid ci doveva aprire al mondo insegnare la bontà l'amore la tenerezza sì ne ho visto tanta ma mi sembra alcuni giorni quando esco di rivedere non so che cosa di rivedere che volte dico voglio tornare a casa voglio stare chiusa stiamo scherzando però si passa proprio ad una possibilità di vedere l'orizzonte e il futuro in modo diverso cioè depotenziando togliendo quelle che sono le difese guardando alle fragilità e il lavoro si fa prima di tutto voi sapete che sono fautrice del lavoro su se stessi cioè io lo dico sempre nessuno ha la pretesa di cambiare gli altri assolutamente nessuno è qui per questo chi pensa di poterlo fare bene ma dal mio punto di vista l'unica persona che possono cioè io posso al limite provare a cambiare me stessa posso provare a lavorare su me stessa avere una consapevolezza di me stessa quindi tutto questo discorso a volte quando scelgo un tema è il tuo cane che ha bisogno di tenerezza sta bevendo scusate ma è un po' delicata e quindi si sente tantissimo non dà fastidio quindi dicevo appunto il lavoro è bellissimo farlo su me stessi io quando lavoro su un tema faccio veramente tanto lavoro su di me cioè nel senso che volevo sviluppare questo argomento volevo vedere la mia tenerezza dove era dove è posizionata tra virgolette a che punto è o quanto lavoro quanto la sto usando o non la sto usando come risorsa e quindi credo che sia veramente una possibilità se vuoi andare sempre avanti costruttiva assolutamente perché io ho la possibilità attraverso atteggiamenti di tenerezza di non colpire le debolezze degli altri ma di fare in modo che le persone e in prime io stessa cioè che le mie debolezze i miei errori le mie fragilità vengano curate tra virgolette attraverso anche la tenerezza con una forma di cura semplice no? ed è una cura che aiuta salvaguardare che aiuta veramente a guardare in modo salvifico io gioco con le parole mi piace in modo appunto che crei salvezza che crei aiuto che crei vita ed ho scritto è una tisana per rilassarsi questa è carina questa è una carina perché è una tisana che mi dà riposo cioè che non mi fa dormire ma che mi rilassa che mi dire prenditi del tempo per te cura te stessa prenditi cura delle tue fragilità presta attenzione e riconosci che tutto quello che sei non che hai non solo quello che hai ma tutto quello che sei è molto prezioso è molto prezioso quindi per non perdere energia posso usare la tenerezza molte persone pensano il contrario e no se tu ti fai vedere troppo tenera c'è sempre questa parola troppo non c'è il troppo il poco c'è la tenerezza poi ci sono dei film bellissimi che insomma non so se qualcuno li ha visti tipo uno di questi è un film bellissimo generalmente foglie oppure ci sono anche altri film italiani molto carini interessanti su cui si può si può lavorare tantissimo diciamo che la tenerezza mi pone delle domande mi fa fare delle domande mi mette non in crisi assolutamente però mi dà nuove istruzioni nuove sensazioni nuove emozioni e soprattutto mi insegna sempre qualcosa no questa scrittrice dice veramente che è come se fosse una un qualcosa che mi chiama mi chiama per nome cioè la tenerezza proprio ci chiama non solo come donne ma come esseri umani lo dicevo all'inizio è nel DNA nasce prima della parola e quindi fa parte di noi e come tale ce ne dobbiamo occupare anzi addirittura a volte grida e noi la lasciamo sopita cioè adesso devo fare la tenera qua io ho un certo ruolo devo anche non posso mica far vedere sempre per prima che parlo io oppure dico io no così quindi attenzione non intendo dire che non si deve litigare non bisogna parlare in un certo modo non sto parlando di questo sto dicendo di recuperarla come possibilità di comportamento soprattutto nei nostri confronti cioè soprattutto nei confronti di noi stessi quindi nel momento in cui più abbiamo comprensione verso noi stessi tenerezza verso noi stessi riusciamo allo stesso tempo poi a averlo nei confronti degli altri perché sono più ricca più ricca interiormente riesco a gestire meglio l'emozione riesco a gestire meglio certe certi giudizi ecco un'altra volta dovremmo fare qualcosa sul giudizio sul pregiudizio non so sarebbe interessante mi legge nella testa sarebbe interessante perché insomma è un altro argomento molto molto bello no? cioè io ci trovo tutti legati però il fatto di non giudicare cioè più ottenerezza nei confronti degli altri comprensione riesco non a giustificare ma a comprendere certe paure certi comportamenti da dove arrivano non perché dobbiamo essere psicologi assolutamente ma perché lo ribadisco lo ripeto ognuno può risolvere il problema se ha voglia di risolvere il suo problema o il suo comportamento perché le persone sono adulte e meritano rispetto ma la tenerezza è un nuovo sguardo cioè ci aumenta proprio lo sguardo ci allena soprattutto a non avere una visione chiusa incorniciata ma a vedere un quadro nuovo con colori nuovi con insomma proprio suggestioni nuove suggerimenti nuove e ciao Claudia ti faccio vedere i commenti di Lorena aspetta vediamo se li vedi così aspetta che magari guardo anche nel telefonino intanto che bello questo scomporre le parole per dare loro nuova veste e a noi più consapevolezza e Lorena è un'amica lei sa che io sono essendo un'insegnante italiano tendo moltissimo a giocare con le parole cioè nel senso che insegnando anche una lingua come L2 come lingua straniera l'italiano come sono persone che arrivano da altre culture ho sempre giocato con mi piace molto no? tenere a mente tenere a mente così parole che le viaggiare le prendi un pezzo via che ti insegni altre cose è una caratteristica sono un giochino che faccio che mi piace e quindi così grazie saluti da Mariella ciao Mariella che ti saluta ciao Mariella grazie e poi sempre Lorena diceva così sicuramente disarmante per chi riceve tenerezza improvvisamente gratuitamente eh sì questo è proprio il discorso del disarmante cioè essere senza armi dis armante e amante amante se togliamo la R ma un'altra cosa e il discorso infatti non so se avete mai notato come più sei tenera più sei gentile e più l'altra persona è in difficoltà a rispondere non so Sabrina se ti è mai capitato ma c'è proprio questa non essere più neanche abituati al discorso della tenerezza proprio perché ti è un po' presi dal fagocitare tutto dal usare tutto usare tanto tutto subito e il fatto invece di coltivare tenerezza un po' come i fiori che dicevamo prima di cui parlavamo prima è qualcosa che per qualcuno è assolutamente nuovo e assolutamente veramente lascia senza dico non è possibile e addirittura si pensa che siano finte queste persone che si comportano dicono ma non esistono più le persone così perché non so non so se hai perdito queste frasi ma no ma com'è possibile che esistano queste persone così gentili chissà cosa c'è sotto chissà cosa vuole per esempio io sono una timida per cui magari i miei gesti di tenerezza comunque sono pratici sono più sul fare tu hai fame io ti porto la spesa magari non ti tengo la mano però stavo pensando che comunque l'atteggiamento di tenerezza va comunque sempre tarato su come si è quindi non è che uno per forza deve essere colui che cioè la manifestazione può essere in qualsiasi modo quindi ma assolutamente lo dicevamo prima cioè nel senso che comunque io non è che devo assomigliare a un modello cioè io parlo della mia tenerezza parlo della che cioè agisco in base al mio concetto di tenerezza e come hai detto tu ognuno ha i propri gesti ha i propri e il fatto di usarla metterla in azione anche in silenzio tante cose non è che devo mostrarla per forza dimostrarla o nel senso ognuno agisce come meglio appunto crede quindi il fatto di utilizzarla nei confronti di se stessi nei confronti degli altri eccetera con piccole non parliamo di cose eclatanti non parliamo di fare il Che Guevara della situazione una delle ultime slide che ho messo è madre Teresa di Calcutta cioè ho messo proprio due allora volevo metterne anche altri ma ho detto no se no così veramente non ce la faremo mai però appunto insomma è necessario che ognuno trovi la sua forma assolutamente io non ne sono convinta quindi vedo Lorena che mi ha mandato un messaggio dicendomi se potrà parlare non so non vedo non ho la sua su un telefonino visto va bene magari ho sbagliato comunque niente se andiamo avanti anche se le persone ti faccio vedere il commento di Francesca sì purtroppo a volte la tenerezza viene fraintesa con la debolezza come se la forza interiore esistesse solo in presenza di prepotenza sbagliato d'accordissima d'accordissima Francesca perché è proprio questo il fatto che se tu dimostri atteggiamenti teneri sei considerata una persona debole e io lo riconfermo quello che ho detto prima cioè avere comportamenti tenere non vuol dire per esempio non dire in modo assertivo a qualcuno quello in cui credi o quello che pensi veramente tutto sta ovviamente a vedere se hai nelle tue parole nei tuoi gesti nei comportamenti nel momento in cui dici questa cosa tenerezza che vuol dire non umiliare non colpire non usare appunto le sue debolezze le sue fragilità eventuali quella diventa debolezza perché c'è sempre lì si va poi su un altro argomento che è quello del metodo dei due vincenti quando c'è una discussione è importante che entrambi usciamo da questa discussione da questo dialogo da questa comunicazione entrambi vincenti non che uno viene umiliato e l'altro che bello così ho vinto la discussione perché entrambi poi si sta male ma è importante credo che venga utilizzata la tenerezza poi a dire la verità se gli altri considerano il mio atteggiamento di tenerezza come debolezza voglio dire fa niente sinceramente penso che siamo anche grandi a sufficienza per lasciarci un po' alle spalle questa cosa quello che pensano gli altri è giusto che noi siamo convinti che questo comportamento lo ripeto sia una risorsa se gli altri non la riconoscono vabbè credo che sia un problema secondario ecco un problema diverso un problema assolutamente secondario se c'è qualcun altro che ha qualche no vado avanti sì aspetta che rimetto le slide ok ok e quindi allo stesso tempo come la comunicazione come il discorso dell'uso delle parole del silenzio e anche del tempo di cui abbiamo parlato l'altra volta penso che anche la tenerezza sia un allenamento cioè non è automatica nel senso noi dobbiamo prima riconoscerla ce l'ho la tenerezza abbiamo detto ce l'abbiamo ok come faccio a usare questa tenerezza come come mi alleno proviamo prima magari allenarci con noi stesse poi come hai detto tu anche Sabrina prima uno può anche fare dei piccoli gesti no dobbiamo partire da sempre dalle piccole cose non siamo qui per i gesti eclatanti ma proviamo non so domani mattina a fare dei avere dei comportamenti e pensare se quelli sono legati al discorso della tenerezza penso che sia molto importante essere proprio vigili curvarci verso noi stessi chinarsi inginocchiarsi non nel senso di umiliarci ma piegarci a questa cosa perché è scavando dentro di noi che riusciamo a a come dire a trovarla percepirla e poi utilizzarla non è un sorriso continuo cioè non è che io sto ridendo a tutti per forza allora sì anche quello è un bel gesto no ma quello è un altro argomento ancora ma una delle più belle definizioni è anche questa un po' che è uno sguardo velato di lacrime che non pretende di possedere la realtà è una carezza che mira alla costruzione di un mondo comune cioè è una cosa molto più grande quindi io attraverso la tenerezza non è che penso di occupare la realtà di come dire di di possederla che è mia di avermi il controllo no è qualcosa che è proprio una carezza un velo proprio un un gesto leggerissimo anche questo legato alla leggerezza abbiamo parlato un po' di tempo fa no che la leggerezza è sempre un po' alla base e che ha l'obiettivo quello di costruire mondi migliori un mondo comune non parlo di l'altra volta avevamo parlato se non mi sbaglio di quanto per esempio il discorso del silenzio potesse far parte del discorso della politica potesse aiutare la politica intesa come polis e mi chiedo se anche la tenerezza può essere utilizzata all'interno di macromondi di aziende di istituti di ospedali pensiamo quanta tenerezza c'è stata in questo periodo in alcuni ambienti dove c'è stata tantissima sofferenza ma portiamola anche sul piano invece della gioia cioè la tenerezza come elemento di costruzione di gioia non solo la devo usare quando qualcuno è in sofferenza ma proviamo a utilizzarla come base come fondamenta di case che siamo poi noi stessi le case di come questa tenerezza può essere utilizzata nella quotidianità per sostenerci nella gioia anche perché è bellissimo di avere tenerezza non so in contrapposizione all'invidia o lei riesce io no perché questo succede tutti a me succedono di utilizzare anche lo sguardo e tenerezza verso chi invece ha grandi gioie e lì ho messo le due impronte sempre nel verde questo viaggiare questo camminare il viaggio nella tenerezza penso che sia un viaggio continuo costante che non finirà mai è un allenamento una palestra per tutta la vita questo ne sono molto convinta di tutti gli elementi insomma che abbiamo un po' sviscerato di quelli che magari poi in presenza riusciremo a sviluppare insieme Sabrina penso che sia bello averne una visione con un continuum cioè non è che io lavoro questo mese sulla tenerezza e poi basta cioè è un allenamento che è costante e poi essendone convinta so anche che mi porta benessere perché poi l'obiettivo fondamentale è star bene penso che nessuno lavori per star male o che proceda nella sua vita per star male dobbiamo cercare di non essere autolesionisti ma autoregeneranti non so penso che anche tu lavori per questo Sabrina assolutamente assolutamente e quindi una delle ultime slide che ho messo se non mi sbaglio questa di madre Teresa di Calcutta vabbè una delle più grandi ovviamente di grandi personaggi che ha utilizzato la tenerezza in cui appunto dice parla loro con tenerezza lascia che ci sia gentilezza sul tuo volto nei tuoi occhi nel tuo sorriso nel calore del nostro saluto abbi sempre un sorriso allegro non dare solo le tue cure ma dai anche il tuo cuore qui siamo proprio al top fare in modo che parli la tenerezza a volte come hai detto anche tu magari non riusciamo con le parole non ci vengono soprattutto in alcune situazioni non ci arrivano ma abbiamo dei gesti utilizzando le mani o gli occhi o con le mascherine in questo periodo soprattutto non so ma cerco di far parlare il più possibile degli occhi perché possono essere anche questi molto importanti per comunicare tenerezza e quindi la domanda iniziale era abbiamo bisogno di tenerezza non so per me ce n'è una grande necessità veramente le persone secondo me appunto perché nel momento in cui tu fai un gesto tenero rimangono colpiti vuol dire che ce n'è ci sono proprio dei buchi dei buchi che non è che vengono riempiti attraverso un mio gesto ma sicuramente possono dare un messaggio di speranza di dire guarda che la tenerezza esiste guarda che non sei solo guarda che il convivere il viaggiare il comunicare lo stare al mondo attraverso la tenerezza può veramente darti un grande aiuto ci sono milioni di gruppi o di associazioni di volontariato di quello e quell'altro che a più livelli si occupano di usare le mani e usare insomma azioni di tenerezza io penso che ognuno nel suo piccolo possa fare tanto soprattutto ripeto prima con se stessi usare la tenerezza nei confronti di se stessi che non è egoismo ma anzi insomma è importantissimo è veramente importante e Sabri l'ultimissima wow che bello bellissimo ecco questo è un bouquet bellissimo secondo me molto bellissimo moderno se vogliamo che non è una corona di spine anzi bellissimo sono gemme sì sembra è un bouquet fatto sempre da una mia amica che veramente sta attraverso i fiori lo dicevamo prima all'inizio insomma cambiando tanto soprattutto si sta rimettendo moltissimo in gioco ed è una tra l'altro delle persone più tenere che conosco che veramente usa la tenerezza come arma vincente come modus vivendi come arma vincente insomma quindi credo che sia bellissimo partire da una estate tenera perché ne abbiamo tutti bisogno dopo questo periodo anche molto pesante pieno di incognite perché il futuro è una grande incognita con cui parli è difficile mantenere lo stato di di ottimismo no perché tante persone con cui si parla c'è sempre un po' questo down ovviamente da capire e quindi insomma utilizziamo anche questa possibilità secondo me per portarci benessere non so Sabri se c'è qualcun altro che vediamo subito aspetta che torno allora no non vedo commenti vediamo aspetta ah io nel frattempo ho scritto i libri ho scritto il film così ho già scritto nei commenti quelli che hai consigliato no non vedo non vedo commenti ci mettiamo più grandi bellissimo l'intervento come sempre grazie grazie non è un argomento facile sinceramente perché infatti dopo dopo che ti do i titoli no dico ma perché ho fatto questo ho detto questa cosa però mi piace poi lavorarci su come ti dicevo fare ricerche questa è solo una piccola parte di quello che abbiamo trovato un po' semplificando poi no però così penso che siano dei temi carini che insomma ognuno poi può sviluppare a casa come meglio crede e poi ci credo davvero cioè nel senso che sono delle grandi opportunità dei atteggiamenti di grande crescita ecco che ci possono veramente poi dovrai scrivere un libro su WorldCaffè beh guarda ho appena finito un po' di scrittura quindi non lo so magari prima dei 50 anni qualcosa si varia senti Claudia volevo fare una riflessione rispetto alla tenerezza che è molto più facile manifestarla con le persone che soffrono con le persone che stanno male con i bambini con gli anziani magari è più difficile con i nostri pari questo parlo per me e poi volevo ricordarti che devi presentare i nostri incontri in studio sì abbiamo deciso appunto con Sabrina da settembre di così creare un piccolo percorso di penso quattro incontri vedremo tratte dal tema da questo progetto da questo libro strepitoso che è Donne che corrono con i lupi quindi abbiamo pensato appunto di creare un filo rouge in cui in ogni incontro verrà sviluppata una fiaba Donne che corrono con i lupi è un lupi che vengono considerati animali terribili eccetera invece hanno una tenerezza pazzesca e lo vedremo ma a parte questo il libro sviluppa diverse fiabe noi ne sceglieremo alcune e svilupperemo alcuni argomenti legati sempre al mondo femminile insomma quindi vi aspettiamo e saremo felici di insomma condividere in presenza speriamo questi incontri in cui arricchenti insomma abbinando magari anche un'attività pratica che possa dare poi rilassamento come siamo noi donne pratiche esatto donne pratiche siamo così questo commento è bellissimo ah sì un dolce tormento è bellissimo bellissimo perché voi dovete sapere che di solito quando io finisco gli incontri allora io inizio con le domande ma le persone non vanno mai a casa anzi adesso siamo già a casa ma non vanno mai via senza essere più confuse c'è l'obiettivo è creare confusione creare benessere ma creare confusione perché è dal caos che arrivano poi eh i grandi i grandi idee sì e quindi buon lavoro a tutti buona estate a tutti e grazie sempre grandissimo veramente a Sabrina abbiamo un sacco di bei commenti poi dopo te li guardi con calma ringraziamenti eccetera grazie a te Claudia bellissimo mi è piaciuto un sacco va bene intanto a me piace tutto quello di cui ci parli quindi mi piace il modo il modo in cui ti esprimi e i contenuti che sono sempre molto dolci qualsiasi sia l'argomento sia una donna che esprime la sua tenerezza con le parole quindi bello questa cosa va bene salutiamo salutiamo tutte quelle che ci hanno seguito presto vi faremo sapere qualcosa di più concreto rispetto ai nostri incontri stiamo cercando di organizzare le date e anche di capire se potremmo farlo davvero in studio ma a questo punto direi di sì e niente quindi state collegate salutiamo Claudia e arrivederci ciao grazie per l'attenzione ciao buona estate ciao 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 Grazie a tutti.